Presidente, l'urna di Nyon ha riservato tre avversarie che sono nell'ordine. Lo Stalitzka Minsk, testa di serie numero 18, ancora gli ungheresi del Ghior, testa di serie numero 11 e gli ucraini del Kherson, testa di serie numero 19. E allora mi corre l'obbligo di chiederti un tuo parere su questo girone di Elite Round di UEFA Futsal Cup. Certamente dico che poteva andare peggio, poteva andare anche peggio. Comunque quando si arriva a questo livello in Europa in Elite Round ci sono 16 squadre, quindi penso siano le 16 squadre più forti d'Europa e alla fine ogni partita sarà una finale e quindi saranno 16 squadre che si candideranno per arrivare tutte 16 in finale. Ne passeranno solo 4, 1 per girone e quindi se queste squadre sono arrivate là, come ad esempio il Minsk che è arrivato da testa di serie, vincendo tre partite su tre, non penso che siano squadre assolutamente da sottovalutare. Per quanto riguarda noi siamo felici di andare a Ghior perché è una società che abbiamo avvenuto la fortuna e l'occasione di conoscere a Padova e già pregustavano di candidarsi per fare il girone e quindi penso sarà una bellissima soddisfazione per loro riuscire a organizzare l' Elite Round e noi certamente andremo a Ghior decisi a giocarcela fino alla fine. Abbiamo saputo dimostrare già a Padova che abbiamo tenuto testa ai mostri sacri del Barcellona, quindi perché no? Il sogno continua e quindi noi cercheremo di vendere la pelle e fare la nostra bella figura anche in Elite Round. Senti, volendo esaminare un po' più da vicino questo girone dei Maggiari del Ghior, abbiamo detto, sono arrivati i terzi proprio nel raggruppamento in cui la Luparense è arrivata seconda, non si conoscono molto bene questi ucraini del Kherson, sappiamo che testa di serie numero 19, che nel loro girone sono stati sconfitti dallo Sporting Club de Portugal e dell'Economats Kravujevats, si conoscono un pochettino di più invece i bielorussi del Minsk che in casa hanno veramente messo in difficoltà il Pescara e il Caira Talmati. Peraltro i principali organi di informazione danno una Luparense addirittura favorita alla pari con il Minsk. Come commenti questi pronostici della vigilia? Beh, innanzitutto mi fa piacere che diano la Luparense favorita perché vuol dire che siamo cresciuti, a Padova non ci davano per favoriti e vuol dire che a Padova abbiamo dimostrato di tenere testa queste grandissime squadre europee, però non mi fido dei giudizi o di quello che possono pensare, perché alla fine, ripeto, una squadra che batte il Pescara e batte il Cairat, finalista di Coppa di Champions dell'anno scorso, non credo che sia tanto da sottovalutare e alla fine hanno fatto tre vittorie su tre partite, quindi ripeto, quando si arriva a questo livello tutte le squadre sono forti, lo stesso Gior in casa può essere un'altra squadra, quindi ripeto, noi un girono valeva l'altro e l'unica situazione positiva per andare a Ghior è che secondo me possiamo portare i nostri tifosi e quindi stiamo già cercando di organizzare un esodo verso Ghior, cercando di fare almeno un pulma di tifosi che possono venire a vederci e incitarci perché veramente per noi sarebbe un grande entusiasmo, ci darebbe grande stimolo, grande morale, perché alla fine credo che con qualche aggiustamento o qualche rinforza che potrebbe avvenire in questi giorni, in queste settimane, penso che possiamo andare a giocarcela, almeno alla pari con le altre. Allora il presidente Zarattini ci ha dato già una chicca, sta per partire l'esodo verso Ghior, verso l'Ungheria, la società ci ha già detto, sta già preparando dei pullman, quindi tutti i tifosi sono chiamati a sostenere i lupi, un'ultima domanda presidente, ormai si parla di ciclone Zarattini, un ciclone che a quanto si dicono sta raggiungendo anche il settore del mercato, giocatori che arrivano dall'estero possono arrivare in Italia, abbiamo anche qui sentito alcune voci, alcune indiscrezioni, ti devo chiedere naturalmente se c'è qualcosa di vero in vista proprio di questa Elite Round in cui vuoi fare proprio molto bene. Guarda io abbiamo fatto una riunione oggi subito dopo il solteggio, ma è quello che pensavo già sabato sera dopo la fine del Main Round a Padova, io credo che il mercato di dicembre per noi, quello che sarà il mercato di dicembre in Italia per noi non sarà un mercato che ci riguarderà perché alla fine le squadre che hanno dei giocatori importanti certamente non verranno a dare a noi, quindi credo che il nostro mercato debba cominciare oggi e non dobbiamo aspettare assolutamente dicembre perché oggi abbiamo la possibilità di rinforzare la squadra per novembre, per novembre non è solo Elite Round, ma in novembre abbiamo dieci partite in un mese, una ogni tre giorni, quindi abbiamo già fatto una riunione con il direttore e l'allenatore e siamo sul mercato, stiamo valutando già delle posizioni importanti che potrebbero arrivare già da presto in modo da essere possibile di tesserarle già nelle prossime settimane, certamente a breve riusciremo a tesserare Victor Melo che è già un giocatore che è qua da due mesi e quello sarà il nostro primo rinforzo, poi stiamo a guardare, stiamo a vedere sul mercato e credo che, spero anche prima dell'inizio dell'Elite Round, riusciamo ad avere delle novità importanti per quanto riguarda il roster del Paris.